Distanze di sicurezza, mascherine obbligatorie, ingressi separati. Sulla base di questo è stato trovato l'accordo tra Governo e la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, per cui dal 18 maggio è possibile tornare a Messa. Innanzitutto, la distanza tra i fedeli dovrà essere di almeno un metro laterale e frontale. La Chiesa dovrà attivare una rete di volontari contapersone per controllare gli ingressi e far accedere un numero di persone tale da garantire la distanza anticontagio. Bisognerà distinguere una porta per l'accesso e una porta per l'uscita dalla chiesa, garantendo la distanza di almeno un metro e mezzo durante la fila per accedere. Anche in chiesa dovranno essere presenti gel igienizzanti e l'ingresso sarà garantito solo a chi indosserà la mascherina, mentre spetterà ai parroci ricordare ai fedeli che non si può accedere alle messe con sintomi influenzali o con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo e a coloro i quali hanno avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid. Per i disabili dovranno essere disponibili i posti riservati. Per quanto riguarda la liturgia, niente segno della pace, mentre per la comunione è chiesto al sacerdote di igienizzarsi prima le mani e di indossare la mascherina. Norme specifiche sono previste anche per le confessioni, nelle quali va sempre garantita la distanza tra fedele e sacerdote. Questo protocollo varrà per le messe in generale e dunque anche per funerali, matrimoni e battesimi. Il pensiero di uno dei parroci di penne, Don Andrea Di Michele. Adesso dal 18 in poi si potrà ricominciare a celebrare con una porzione di popolo di Dio, quindi evidentemente siamo contenti perché la celebrazione è fatta così, è una liturgia fatta insieme. Ho letto oggi le regole e vedremo di soddisfarle anche perché per una sicurezza nostra, la sicurezza della gente e per poter continuare a ricominciare a celebrare. Il distanziamento è giusto e assolutamente va fatto, solo che ci sono alcuni edifici ecclesiali che sono molto piccoli e lì avremo difficoltà a celebrare perché anche in una celebrazione, mantenendo quelle misure, quelle distanze, potremmo fare entrare forse dieci persone e allora questo penso che è la difficoltà più grande. C'è scritto che ho terminato ogni celebrazione e la chiesa deve essere pulita e igienizzata per poter far rientrare altre persone, quindi intanto non si potranno mettere sicuramente messe a ripetizioni, ma distanziarle e nel frattempo provvedere alla pulizia e tutto il resto.